Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Oggi pomeriggio alle 14.30 il Teramo riceverà la visita della capolista Turis Valpescara al Pigliaccelli di Montorio. Una gara importantissima per i biancorossi da vincere assolutamente per ridurre il distacco dalla vetta. Un Teramo che viene dalla sconfitta con il Fontanelle. Per quanto riguarda la formazione, Pomante valuterà un po' prima della partita se ce la farà recuperare il portiere Bozzi e soprattutto il capitano Ivan Speranza. Tato potrebbe essere tra i convocati e Pomante sta anche pensando di buttare nella mischia dal primo minuto l'ultimo arrivato Stefano Degidio. Ora andiamo ad ascoltare proprio il tecnico Marco Pomante. Secondo me è una bella partita dove si affronteranno due squadre forti. Per noi è una partita importante perché abbiamo la possibilità di riprenderci dopo il passo falso di Fontanelle. Consapevoli che affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un ottimo campionato. È la prima in classifica quindi abbiamo tutte le carte in regola per giocarci alla grande questa partita. Cerca di riportare a casa la vittoria perché siamo in grado anche di vincere. Parliamo di questo avversario. Come gioca? Come si esprime? Che problemi può creare al Teramo? È una squadra che sta facendo bene. È una squadra che ha lo stesso allenatore da due anni, che lavora su questo progetto da due anni. È una squadra che ha un'idea di gioco importante. Parliamo sempre di una squadra che ha fatto nove vittorie di fila quindi vuol dire che ha dei pregi. Però secondo me ha anche dei difetti e noi dobbiamo essere bravi a mettere in luce questi difetti e cercare di non far vedere i pregi. Perché è una squadra che può fare male a chiunque e l'ha dimostrato in queste nuove partite. Sul piano mentale mi aspetto tanto dalla squadra perché quando vai a affrontare la prima in classifica è uno sconto diretto importante. Penso che a livello mentale non ci sia nulla da lavorare. Non abbia affrontato la partita la settimana come abbia affrontato le altre.